Buongiorno a tutti, un brevissimo messaggio di saluto. Insomma, quando iniziamo, il neossessore Friuli Valizia Giulia mi ha proposto questa iniziativa di presentare una cosa su Sironi, qui in Europa, che ho accettato di buon grado per realizzare questa conferenza stampa per due ragioni. La prima è che conosco l'assessore Cipelli, cioè Tiziana, da tempo e mi lega, come si diceva, nell'Ottocento un rapporto di ben distinta considerazione, nel senso di stima e di simpatia di stima e sono convinto che questo sia il primo episodio di collaborazione tra le due regioni, tra la Lombardia e il Friuli Valizia Giulia, il dato dal governatore Federica e invece di imparci, deve continuare. Quindi, come dire, il primo episodio di questo mio auspicio, un dialogo e una forma appunto di collaborazione che darà sicuramente dei frutti positivi nei prossimi anni. La seconda ragione per cui ho accettato di presentare questa conferenza stampa per presentare la mostra portennonese dedicata a Sironi è che a me, scientificamente, è capitato di intercettare la figura di Sironi in un modo abbastanza tangenziale, in un modo abbastanza originale, ma in un modo, credo, piuttosto pregnante. Perché? Perché Sironi è stato, insieme a Buccioni e a Marinetti, uno dei volontari del battaglione Lombardo dei ciclisti e automobilisti che ha combattuto sui pendici del Monte Vallo. Il Monte Vallo è quella montagna che separa la Valle dell'Adige dal lago di Garda. E sulle alture Sopranano, che è la patria di un grande giurista dell'Ottocento, prima del Novecento, più sigle, Sironi ha combattuto, ha combattuto, era addosso Casina quando c'è stato un grande combattimento, una battaglia minore, quella di addosso Casina. Però a me che ho ricostruito l'Ottocento di Damiano Chiesa che in quelle aree ha combattuto il nome di Sironi era familiare, era familiare la figura di Buccioni e di Marinetti dal punto di vista bellico, dal punto di vista militare, per questo atto del volontariato nel battaglione appunto dei ciclisti e automobilisti che avevano a distanza a Peschiera. Loro hanno raggiunto Marcesine, poi sono saliti sull'altura del Montevaldo e li addosso Casina hanno combattuto. E se voi leggete i loro diari, la loro testimonianza di guerra, vi rendete conto di come sia stato decisivo il momento della guerra per tenerli uniti, per instaurare delle forme di dialogo, di collaborazione. Insomma, sulle Figaro è nel 1909 che Marinetti pubblica il Manifesto dei Futuristi, ma fino a quel momento, fino ai primi anni della prima guerra mondiale, tra di loro forme di dialogo, forme di condivisione dal punto di vista culturale e interventuale non ci sono. Le trovano nella guerra, le trovano nella drammaticità della guerra, le trovano nella schizofrenia delle testimonianze dal punto di vista narrativo della guerra. E quindi credo che un momento molto particolare, molto decisivo per la vicenda biografica, intellettuale e culturale e artistica di Sironi sia proprio il momento della guerra. E il fatto che questa mostra metta insieme un decennio, sostanzialmente, che è quello dal 13 al 24, è molto interessante, perché proprio nel 1913, quando mi era mancare, c'è possibile, che è nato a Nacu, proprio al di sotto, da dove loro passano per raggiungere Dosto Casina. E Scipio Sigle è stato un grande giurista della fine dell'Ottocento, aveva studioso del nazionalismo italiano, aderente all'ANI, l'associazione nazionalistica italiana, ma nel momento in cui l'ANI assume delle connotazioni strettamente imperialiste, Scipio Sigle si stacca dall'ANI. e quindi c'è una serie di collegamenti che mi portano a Sironi, mi portano a questa mostra e è la seconda ragione per cui ho accettato un grado di organizzare questa conferenza stampa. Ovviamente al Comune in Ponte Noe, all'assessore dell'autore in Ponte Noe, al curatore della mostra, le mie congratulazioni per aver organizzato questa mostra che in un ritaglio di tempo sicuramente non mancherò di venire a vedere. e a mia amica Tiziana Ciletti, visto che è assessore da 60 giorni, 90, 120, ecco, è sbagliato, quindi tra i mesi 150, due mesi prima, un sincero in bocca al lupo per i prossimi 5 anni alla vita della cultura e dello sport, ma quello l'ho scoperto solo adesso, della regione. Grazie, grazie.